L'approccio è diverso, meno conflittuale almeno per il momento. L'amministrazione guidata da Fabio Termine è consapevole che una delle problematiche fondamentali è quella della carenza di personale in tutti i settori e soprattutto nell'ufficio tecnico, ma ha scelto al momento la linea della valorizzazione e collaborazione. Si spera in una rapida conclusione dei concorsi in fase di espletamento, ma intanto si annuncia anche una rotazione e riorganizzazione della macchina comunale. C'è un concorso che è in atto, bisogna velocizzare l'itere sicuramente, nei prossimi mesi ci saranno delle nuove unità che entreranno in organico, per l'appunto dovrebbero essere 34, saranno unità fresche che con l'aiuto e il supporto delle personalità di più esperienza dei nostri uffici potranno chiaramente avere l'opportunità di dare una mano alla propria città. Sicuramente quello del personale è un problema non soltanto del Comune di Sciacca, ma anche di tanti altri comuni. Su questo bisogna intervenire con tanta forza, quindi intanto vogliamo portare avanti e quindi a compimento questo concorso e poi ci occuperemo anche magari di rimpinguare ancora l'organico comunale perché è veramente necessario che si possa garantire una massima efficienza e per far questo bisogna avere anche tante unità. Però ci tengo a ribadirlo, quelle che ci sono oggi hanno dimostrato che anche con poche risorse si può dare il massimo quando si vuole bene la propria città. Con queste risorse si cercherà di ottimizzare? Cioè la nuova amministrazione effettuerà una riorganizzazione dei vari settori? Sì, sicuramente adesso finita l'estate cercheremo un po' di riorganizzare tutta la macchina per far sì che con le unità che ci sono assicurare una massima funzionalità dell'ente. C'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista perché bisogna muoversi bene per assicurare una massima funzionalità.